Bentornati su MyFootballGersy. Oggi vediamo insieme la terza maglia del Paris Saint Germain per la stagione 22-23 in edizione player, la maglia dei calciatori, la maglia di Bappé. La terza maglia Nike PSG 2022-23 presenta lo stesso design della maglia da casa con i colori diversi. È bianco con la parte centrale in blu, Game Royale e rosso. Old Royale è un blu più chiaro del blu Navi usato sulla maglia di casa. Old Royale è lo stesso colore utilizzato per la maglia da trasferta del PSG 2021. Pantaloncini e calzettone bianchi completano la terza maglia del Paris Saint Germain 2022-23. La maglia Authentic è la versione indossata in campo dalla squadra. La vestibilità più aderente rispetto alla versione fan è progettata per il fisico dell'atleta. Tutte le nuove maglie sono realizzate con tessuto in poliestere riciclate al 100%, ottenuto dal recupero di bottiglie di plastica. Questa maglia è bella, fatta veramente molto bene e peraltro con un costo che vedete qui sopra veramente bassissimo. Nella mia personalissima classifica questa prende 3 stelle. È una bella maglia, però devo dire la verità, come quella dell'anno scorso, non mi piace tanto che sia semplicemente una versione a colori invertiti della prima maglia e quindi in questo caso non la prendi. Comunque qualità ottima, tempi di spedizione eccezionali. Vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e a questo punto non vi resta che mettere alla prova il sito. Ora vi lascio alla parte finale in cui vedrete la vestibilità. Spero nel frattempo possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa.